Domani la Molisana Magnoli a Campobasso sarà di scena in Sardegna per affrontare il gruppo della Dinamo Sassari a autentica rivelazione di questa stagione dall'alto del suo quarto posto in classifica. Al pari dello scorso confronto contro Faenza anche in Sardegna, coach Sabatelli non potrà contare né su Kaseric né su Perri, entrambe bloccati ancora in infermeria. Domani la sfida aprirà il diciannovesimo turno con palla due prevista alle 14.30 così da consentire il rientro in serata al gruppo Rosso Blu con direzione arbitrale affidata all'Agrigentino Calogero Cappello, alla San Giorgese Valeria Lanciotti e alla Bolognese Cristina Maria Culmone. Il team del capoluogo di regione continua a tingersi di azzurro. Dopo la convocazione di Anna Toiani con Little Basket Rosa nel 5 contro 5 è arrivata una nuova convocazione, sempre tra le atlete a disposizione, sul fronte però della nazionale Open Rosa 3 contro 3 guidata dal coach Venafrano Andrea Capobianco, che sarà impegnata in Francia. Il capitano dei fiori d'acciaio Stefania Trimboli è tra le tre atlete a disposizione rispetto al gruppo D8 convocato che si ritroverà a Roma nella giornata di martedì. Cresce anche il gruppo junior. Sulla scia di quanto avvenuto con l'ala dell'Equador Blanca Chignonez, la molisana Magnole a Campobasso trova per il suo vivaio un altro astro nascente nell'area latinoamericana. È stata tesserata Marta Paolina Moscarella Contreras, arrivata a fine estate a Campobasso ed impegnata già in allenamento con il gruppo Rosso Blu. Adesso per lei la possibilità di scendere sul parquet. Al pari di Chignonez, tra l'altro anche Moscarella, è stata convocata in due campus da WNBA che la sta valutando con grande attenzione. Tutto questo nella settimana in cui la Lega Basket Femminile ha ufficializzato che il Molise e Campobasso in particolare ospiteranno la final eight di Coppa Italia di Serie A1 in programma dal 30 marzo al 1 aprile.